L'amministrazione comunale di Auletta ha approvato con una delibera digiunta l'iniziativa Adotta uno spazio pubblico del tuo comune. Lo scopo è quello di assegnare aree e spazi pubblici comunali a cittadini in forma singola e associata, comitati, aziende e associazioni locali al fine di migliorare l'immagine del paese attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini e anche allo scopo di incentivare la manutenzione delle aree pubbliche inserite nel contesto urbano. Per l'assegnazione degli spazi il comune ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse affinché cittadini, aziende, associazioni e comitati si rendano disponibili all'adozione di aree e spazi pubblici comunali. L'iniziativa prevede che i soggetti assegnatari si impegnino nella raccolta e conferimento di carta, bottiglie, mozzicone di sigarette e fazzoletti, nel taglio dell'erba dove presente ogni qual volta si renda necessario, nell'innaffiatura periodica delle aiuole e nella polizia generale dell'area. L'amministrazione comunale, in cambio del lavoro e dell'impegno della gestore nell'adozione dell'area pubblica, autorizzerà la collocazione di una o più targhe informative in base alla dimensione dei luoghi adottati che garantiscano visibilità al gestore. La targa dovrà essere posizionata all'interno dell'area adottata in accordo con il comune. Le richieste di adozione dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Auletta, un'importante iniziativa realizzata nell'ottica della cultura dell'ambiente e di una gestione moderna del bene pubblico.